La Lazio, in cerca di nuovi padroni di quella tranquillità societaria che tanto poi si riflette sul campo, cede in casa addirittura al fanalino di Coda Monza. Sembra che lo stadio romano esalti le qualità delle ultime della classe. E così, dopo Roma-Lecce, anche i Lombardi, approfittando di un calcio di rigore sbagliato dal capo cannoniere Oliviero Garlini, vivono la loro giornata di gloria. Il killer degli ospiti è Dustin Antonelli.